Radovan Karadzic ricorre in appello. L'ex leader dei serbo-bosniaci contesta la sentenza con cui il 24 marzo il Tribunale Penale Internazionale dell'AIA lo ha condannato a 40 anni di carcere per il massacro di Srebrenica e i crimini compiuti durante l'assedio di Sarajevo. Il suo avvocato Peter Robinson ha denunciato quello che ha definito un processo politico.